Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno cagazzi. Allora, prima di iniziare ovviamente vi invito a condividere il video, a far iscrivere, a fare proselitismo al canale. Mi raccomando che se arriviamo a 25.000 iscritti a maggio mi ossigeno vergognosamente i capelli. Allora, voglio fare un divertente giuoco con voi, un bel giuoco voglio fare, vi propongo un bel giuoco. Sono le 12.15 ad oggi, ok? Infatti tra poco vado a farmi da mangiare. Perché vi dico che sono le 12.15? Perché in questo video parlerò degli affari che sono dati in conclusione, in fase di conclusione, da parte dell'Inter. Io farò questo video fingendo, tra virgolette, che siano già tutti ufficiali. Così io parlo come se fossero già dell'Inter questi giocatori, ok? Così quando arriveranno avrete già la sentenza pronta. Vediamo di questi giocatori che io parlo, quando il video uscirà, cioè credo attorno alle 18.30-19. Vediamo quanti saranno ufficiali, vediamo se avrò portato fortuna e vedremo la mia vendemmia di sentenze, se porterà fortuna in sede di ufficializzazioni e di tutti quelli che saranno ufficializzati vorrò la maglietta con firma del giocatore stesso. No, adesso sto scherzando, però insomma vediamo come andrà questa vendemmia calciomercatizia. Però iniziamo subito, iniziamo con le sentenze, così in surplus. Partiamo dalla situazione fasce. Allora, la mia idea è questa. Se arrivano sia Spinazzola che Young ed esce Lazaro, ok? Il soprannome di Lazaro è Fuoco cammina con me, come il film di David Lynch. Comunque, a parte questo, io vedo un Candraeva nettamente padrone della fascia destra. D'Ambrosio, secondo me, Conte lo vede più come terzo di difesa di destra che come esterno a tutta fascia. A sinistra, come vi ho detto nel post Inter Cagliari in cui avevo già commentato l'affare Politano-Spinazzola, le gerarchie sono più aperte perché l'arrivo di Spinazzola non pone Spinazzola come un netto titolare. Io questo non lo credo, anche perché c'è il discorso delle presenze e se conosco bene Marotta e il modo di lavorare e di agire dell'Inter, sto discorso che il diritto di riscatto diventa obbligo dopo un tot numero di presenze può anche essere che venga abilmente utilizzato, nel senso che non so se Spinazzola farà tutte quelle partite che servono per riscattarlo obbligatoriamente, ma questo magari è un mio complottismo, però vediamo. In ogni caso, Biraghi sarebbe stato chiuso o sarebbe chiuso nel caso in cui all'Inter arrivassero, arrivino i vari, fossero arrivati o arrivassero i vari Narcos Alonso, Emerson, Feccanieri, ecco che allora sulla sinistra la scelta è chiara. A fronte di simili giocatori, Biraghi sarebbe la riserva. Invece con Spinazzola la scelta è molto più aperta, anzi penso che soprattutto nel breve medio termine, Biraghi continuerà ad avere una sua posizione di predominanza nella titolarità, un po' perché sta prendendo confidenza, e un po' perché comunque se non altro a livello fisico, attualmente credo offra più garanzie di Spinazzola. È un'aggiunta quantitativa più che qualitativa, ok? Sarebbe stata quantitativa e nettamente qualitativa se fossero arrivati, ripeto, Marco Salonso o Emerson Palmieri. Spinazzola è una freccia in più al proprio arco, comunque se è in condizione è un buon giocatore e il ballottaggio resta aperto. Però, ripeto, credo che per Biraghi la strada sia abbastanza aperta per quel che riguarda la titolarità grande, Antonio Conte, che l'ha fatto diventare sostanzialmente il titolare. Bravo Antonio. Detto questo, c'è anche la figura di Young da analizzare. Young è il Florenzi, diciamo, il Florenzi dell'Inter. Il Florenzi in arrivo dalla manica, possiamo dire, perché è uno che può giocare sia a sinistra che a destra, può addirittura anche essere utilizzato in altri ruoli centrali alla bisogna, quindi è un po' la toppa. Young è la toppa dell'Inter, che può essere usato sia come vice Candreva a destra, pure Spinazzola a volte ha giocato a destra, ma questo ruolo qua mi vedo meglio Young nel caso, può essere usato sia come vice Candreva, sia nel caso di una Moria generale come esterno di sinistra, e sia anche negli altri ruoli che può essere a fare. Di Marco a sto punto non so se resti, perché al di là dell'ottima prestazione che ha fatto col Cagliari, secondo me Conte punta più sulla continuità e l'affidabilità. Magari Di Marco ti ha fatto una partita straordinaria col Cagliari, ma Conte non l'ha fatto ancora giocare così tanto, perché magari non lo reputa pronto per fare una serie di 8-9 partite con l'intensità che chiede Conte in campionato. Quindi vi ripeto, chiudendo la situazione fasce, se arrivano solo questi giocatori e se arrivano tutti questi giocatori, la situazione è la seguente. Fascia sinistra, ballottaggio piuttosto aperto con una per adesso lieve predominanza di Biraghi titolare, con una freccia in più al proprio arco chiamata Spinazzola. Comunque non un giocatore che ti va a dire bene, da oggi sarà lui nettamente il titolare, sulla destra con l'arrivo di Young ai Candreva, esce Lazaro e probabilmente Young sarà il tuttofare, il tappabuchi diciamo dall'una e dall'altra parte, più verso la destra e magari anche in altri ruoli, il Florenzi dell'Inter. Veniamo al discorso Giroud. Ericsson lo lascio alla fine. Giroud per me è un buon colpo, è un colpo che qui abbiamo sempre caldeggiato, nel senso che ci sta, è un giocatore che seguo anche dall'anno scorso quando lo vedevo in Coppa UEFA con il Chelsea di Sarri, è un giocatore utile, è un giocatore che per me piace agli allenatori, perché si sacrifica, perché non rompe i maroni se non gioca, perché è uno affidabile e soprattutto è uno che sa giocare di sponda e l'Inter ad oggi non ha uno così e che paradossalmente può anche permetterti, qualora Conte ne avesse voglia, di giocare col 3-4-3 facendo lui l'attaccante centrale che lavora anche per i compagni, dovesse mai succedere questo, avete capito? È uno che viene preso per fare la riserva di Lucano, Kaku e Lautaro, quindi non è che ti serviva, voglio dire, Suarez o Kane, ti serviva proprio uno che sapesse anche fare da chioccia, che sapesse accettare le scelte dell'allenatore quando devi stare in panchina, che possa subentrare e dirla sua, un acquisto perfettamente funzionale che l'allenatore conosce, quindi ci sta alla grande. Per quel che riguarda Ericsson, allora, ripeto quello che ho detto nell'ultimo video in cui ne parlai, oggettivamente è un grande colpo anche a livello di immagine, è un giocatore che se dovesse arrivare proietterebbe l'Inter in una dimensione di squadra che brucia anche diverse concorrenze per uno dei migliori comunque centrocampisti al mondo, sicuramente penso tra i migliori dieci centrocampisti al mondo per quello che ha dimostrato, è comunque semifinalista dell'ultima Champions, uno dei trascinatori a livello di risultati forse del miglior Tottenham della storia, perché poi carta canta, quindi oggettivamente, mediaticamente un ottimo colpo, anche se dovesse arrivare alle cifre di cui si parla, perché viste le cifre che girano ad oggi sono cifre comunque molto basse per Eriksen, che magari puoi anche rivendere guadagnandoci il triplo di quello che hai speso forse anche di più, a livello tattico, a livello tecnico, sicuramente aggiunge qualcosa alla squadra, aggiunge uno scalino tecnico, certo è però, personalmente, se mi avessero detto devi puntare a vincere lo Scudetto il tuo allenatore è Conte, chi gli dai? Eriksen o Vidal? Io gli avrei dato Vidal, onestamente, sono due giocatori diversi, nel senso che Vidal è più uno di grinta, di garra, di esperienza, lo conosciamo, lui conosce la Serie A, Eriksen è, tra virgolette, una perla qualitativa che va però, se si gioca, specie se tu giochi col 3-5-2, come ha dimostrato Conte, va magari un attimo inserito, calibrato, deve un attimo adeguarsi anche magari al nuovo modo di lavorare, comunque mi aspetto che faccia bene, che sia uno che diciamo che alzi il livello tecnico dell'Inter, questo sicuramente me lo aspetto, perché ripeto, sul valore del giocatore oggettivamente non si discute, cioè non è che si dice che è scarso, personalmente non mi ha mai fatto entusiasmare come giocatore, come Kuluseski per dire, sono quei giocatori che vengono ritenuti formidabili, forti, magari lo sono anche per davvero, per carità, non è che sto dicendo il contrario, però soggettivamente me a colpa, me a grandissima colpa, se fossi stato nell'Inter, diciamo, e avessi dovuto scegliere un giocatore da portare a Conte, avrei portato Vidal, a me sono concesso che la scelta ci sia tra i due e non possano arrivare tutti a due, questo ovviamente non è che si possa escludere, però se la scelta è tra i due avrei portato Vidal, detto questo, lo chiarisco bene, oggettivamente per l'Inter è una aggiunta di livello, di livello, nel senso che è uno che ti va a aggiungere uno scalino. Lì sarà interessante vedere poi chi giocherà tra Sensi, Eriksen, Brozio, penso che il ballottaggio, se così si può dire, ditemi se sbaglio, il primo che mi viene in mente sarà tra Sensi ed Eriksen, penso che saranno loro a contendersi quello spazio lì in campo. Comunque vi ripeto, questa è la mia opinione sulle trattative, dovessero chiudersi tutte queste trattative qua sarebbe comunque un ottimo mercato di riparazione, specie per le cifre che ha investito. A sinistra, come vi ho sempre detto, comunque se dovessero finire così le cose non si tarpano le ali a Biraghi e si va avanti diciamo con una scelta in più. A destra c'è Candreva che è un fedelissimo di Conte, a centro campo hai una giunta, in attacco ti torna Sanchez ma che comunque non bastava perché all'Inter serviva quel Geko che non è arrivato, hai aggiunto Giroud, la difesa è a posto quindi insomma vai anche a rimpolpare bene la squadra, vai a rimpolpare bene una squadra che aggiunge diverse frecce al proprio arco per il campionato insomma. Quindi, vediamo che arriva ufficialmente di questi e queste sono le mie queste sono le mie sentenze ditemi cosa ne pensate un bacione un caro saluto e vado a mangiare.